Il Salento registra alte concentrazioni di radon, un pericoloso gas naturale radioattivo che si sprigiona dal sottosuolo roccioso. È inodore e in colore, ma molto dannoso per la salute, gli studiosi lo inseriscono tra le cause del tumore al polmone, soprattutto nei bambini. La Regione Puglia sta preparando una legge per introdurre un piano anti-radon e arginare le radiazioni killer negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro. In seconda e terza commissione il professor assennato dell'ARPA ha relazionato sugli ultimi dati disponibili. La provincia di Lecce nel 2013 è risultata la più esposta. Il gas favorito dal tufo e dalla pietra leccese minaccia scuole seminterrati sotto scala. I livelli riscontrati nell'aria in molti casi sforano la soglia di guardia dei 300 Becquerel stabilita dall'Unione Europea. La norma all'esame fissa limiti di guardia, avvia un monitoraggio in Puglia e predispone un piano di interventi per contenere le radiazioni, ma l'Istituto Superiore della Sanità l'ha già bocciata. Il parere giunto in commissione considera limitati i tempi di rilevazione, tre mesi anziché un anno, sconsiglia di fissare soglie di guardia che costringerebbero alla chiusura centinaia di edifici e richiede lo stanziamento di fondi assenti nella legge. Inoltre la legislazione dovrebbe raccordarsi al piano nazionale di contrasto alla Radon. Ce n'è uno in vigore dal 2002, ma in attesa di essere aggiornato alle nuove direttive europee, un'operazione che andrà completata entro il 2018.